Bentornati a The Icons, la rubrica che parla delle foto più iconiche della storia della fotografia. Oggi vi parlo di un autore importantissimo che si chiama Saul Leiter. È un autore che ha completamente cancellato il confine tra pittura e fotografia. Saul Leiter infatti nasce come pittore, poi evolve e diventa anche un fotografo. E nelle sue fotografie è davvero difficile dire ok, qui finisce la fotografia e qui inizia il quadro, perché si mischiano completamente, riesce a creare delle fotografie che sono quasi astratte. Sono al confine tra l'astrazione e la fotografia invece più descrittiva. E questo le rende veramente ibride, veramente strane, ma molto molto interessanti, piene di atmosfera e piene di emozioni. Racconta la città New York dove si è trasferito a vivere, lui nato in Pennsylvania, ma la racconta in una maniera diversa da tutti gli altri fotografi del tempo, quindi qualcosa di veramente originale. Poi è anche un fotografo di moda in realtà, quindi fa anche diversi servizi di moda, però è conosciuto soprattutto per queste sue fotografie di città, di New York, perché sono speciali, sono veramente diverse da tutte le altre fotografie di New York che avete mai visto. Quindi lanciamoci subito, vediamo subito alcune sue fotografie, così vi faccio vedere un po' il suo percorso. La prima fotografia fa parte del suo periodo iniziale, quello in bianco e nero, in cui scattava in bianco e nero, ma già qui vediamo comunque il fortissimo legame con la pittura. È una fotografia veramente particolare. Vediamo attraverso un vetro il mondo esterno, ha nevicato, c'è la neve a New York, e vediamo questa silhouette di quest'uomo avvicinarsi, ma al tempo stesso un uomo che si cancella, cioè non finisce, sembra un corpo sospeso in aria. Vediamo bene soltanto il viso, proprio questo profilo bellissimo, molto preciso. Vediamo altre silhouette in lontananza che si avvicinano, però il corpo di questa figura in primo piano si disgrega, quasi scompare nel nulla. C'è questo idrante che ci dà la sensazione comunque di qualcosa di una strada che non vediamo perché è coperta dalla neve, quindi una foto veramente misteriosa, molto strana. Sembra quasi un fumetto in questo caso, non sembra quasi una foto, sembra un'illustrazione. Per questo vi dicevo, questo confine tra pittura e fotografia che si sfumano, si mischiano tra di loro queste due forme d'arte diverse. Quindi un'immagine veramente potente anche questa qui, veramente interessante questa di questo suo primo periodo in bianco e nero. La seconda immagine che volevo mostrarvi invece è un'immagine diversa poi dalle altre, perché vediamo un ritratto, vediamo una persona, ma in realtà non la vediamo, la vediamo nascosta. La vediamo dietro questo vetro smerigliato con questo gioco di piante, di frutta e il viso viene completamente cambiato, si trasforma, diventa qualcos'altro, qualcosa di veramente molto misterioso. È bello proprio come lui mette la persona incastrata in questo disegno, quindi è veramente interessante anche il movimento del corpo abbinato a questo movimento invece di questa vetrata. Veramente una foto interessante anche questa. La terza foto fa parte di queste foto di strada di New York di cui vi parlavo a colori. Eccola qui, veramente incredibile. Questa foto mi è sempre piaciuta molto perché c'è un fortissimo elemento di astrazione che poi si ritrova in tantissime altre foto di Soul Later, che è questa parte sfocata in primo piano con questo colore a tutto campo. Non si capisce neanche bene che cosa sia. Probabilmente lui guarda attraverso una tenda o attraverso comunque una finestra, guarda giù in strada e in strada c'è questa persona, questa donna, con le braccia aperte. Io non so perché, ma ho sempre immaginato che questa donna stia cantando. Sia lì per strada che canta, sta passeggiando, cantando, libera, mi dà una sensazione di libertà. E invece lui, chiuso qui, in questo luogo più scuro, che guarda fuori, mi dà una sensazione invece di prigionia. Come se guardi fuori, volendo andare fuori, vedendo invece questa situazione più libera di questa donna, che invece cammina senza problemi per strada, quindi mi dà una sensazione proprio di una ricerca di libertà, di voglia di scappare, di andare verso qualcosa di diverso. Quindi mi è sempre piaciuta molto anche per i toni, dei colori, insomma è tutto molto calibrato. È una foto che sembra quasi casuale in un certo senso, quasi una foto di quelle che noi diremmo, ma questa foto è sbagliata, perché la persona la vedo bene, vedo questa parte sfocata in primo piano, cosa mi interessa di questa parte sfocata. Invece tutti questi elementi la rendono veramente così potente, così particolare, rendono unico l'occhio di Sol Leiter. L'ultima foto che volevo farvi vedere fa sempre parte di questo periodo, è anche questa una foto che mi è sempre piaciuta moltissimo. Qui vediamo quest'uomo, questo signore con le braccia dietro la schiena, proprio tipica posa da vecchietto italiano, chissà se magari è un italo americano che ha beccato Sol Leiter a New York. E poi c'è tutto oscuro, tutta oscurità che lo avvolge. Non lo so, a me è sempre fatto pensare quasi che lui sia sul ciglio di un baratro, che sia per cadere in questo baratro, in questo vuoto, in questa oscurità. Vogliamo dire che è la morte? Non lo so, il nulla. Quindi l'annullarsi e andare verso qualcosa è di completamente estraneo. Quindi mi ha sempre dato una sensazione di angoscia da un certo punto di vista, ma anche di serenità, perché comunque lui guarda con serenità questo vuoto, cioè lo guarda, lo affronta con tranquillità, è come se è pronto ad andare via, a lasciarsi andare in questa oscurità, a perdersi in questo nulla. Quindi è una foto veramente molto particolare, molto forte secondo me, molto profonda, che mi ha sempre colpito molto per questa sua grandissima intensità. Ecco, come avete visto, quindi un autore molto particolare, quest'uso della sfocatura così strano di queste parti sfocate in primo piano con queste campitue di colore piene veramente fa pensare alla pittura più che alla fotografia. Però l'abbinamento di queste parti con queste invece immagini, invece queste parti più descrittive, invece lo rende molto moderno. E infatti mi ricorda anche molti esperimenti di pittori che poi sono arrivati dopo. Quindi secondo me lui è veramente un autore rivoluzionario, che è riuscito a mischiare queste due forme d'arte in qualcosa di nuovo, e poi ha ispirato moltissimi altri autori successivi. È un autore ancora poco studiato e poco conosciuto, ma secondo me avrebbe veramente bisogno di essere ancora più approfondito e non vedo l'ora di vedere una grande mostra su di lui. In Italia non credo sia mai stata fatta una grande mostra su di lui, quindi io aspetto con ansia di vederla per poter approfondire questo autore veramente incredibile. Spero vi sia piaciuto questo incontro con Solator. Ci vediamo al prossimo appuntamento di Icons, le foto più iconiche della storia della fotografia. A presto!